Siamo andati a cercare un po' di esempi di scuola del futuro suggeriti dalla rete. Partiamo con questo video, che ha vinto il White House Student Film Festival 2014. Un team di giovani americani ha immaginato la scuola perfetta così. Anche le grandi aziende high-tech hanno provato a progettare le classi di domani. Microsoft Intel E Google, che ha fatto provare realtà virtuale e wearable device agli alunni di una scuola elementare. E poi c'è la realtà. Qui siamo in Finlandia, considerato il sistema scolastico più all'avanguardia. E chiudiamo con le scuole primarie olandesi ispirate a Steve Jobs, dove le lezioni ovviamente si fanno con il tablet. E chiudiamo con le scuole primarie oltre.